Buon pomeriggio a tutti, ciao sono Rita e con gran piacere vi parlo di due prodotti molto importanti che ci aiutano a non sentire le gambe stanche e le gambe gonfie. Adesso arriva la bella stagione, quindi il caldo non ci aiuta molto, invece se noi preveniamo tutto questo saremo al meglio. Vediamo di quali prodotti si tratta, mineral complex, tutti minerali con magnesio e potassio e in più il prezzemolo. Poi abbiamo Hydrate, l'hydrate è una miscela di vitamine B1, B2, B12 e vitamina C. Come sappiamo la vitamina C è un antiossidante, quindi ci aiuta ad avere tantissima energia durante la giornata, in più ha tanto calcio e magnesio. Questa miscela perfetta ci aiuta a stare al top durante tutta la giornata. Come vedete ho già riempito la mia seconda bottiglia, quindi bisogna bere almeno due litri d'acqua al giorno. Questo è il mio secondo litro, ho già messo di nuovo una bustina dentro di Hydrate e poi ho già preso da stamattina sei tavolette di mineral complex. Tre al mattino, tre al pranzo e tre a cena. Si può fare anche quattro, quattro e quattro. Ma premetto una cosa, che per restare al top bisogna partire la mattina da una colazione Herbalife, ricca di idratazione di 114 micro e macronutrienti. Perché? Perché al mattino appena svegli, dopo di uscire di digiuno il nostro corpo ha bisogno di idratarsi perché perde tantissima acqua e noi siamo fatti per il 70% di acqua. Quindi dobbiamo ristabilire la giusta idratazione del nostro organismo e allora dobbiamo bere minimo almeno 250 ml d'acqua. Quindi mettiamo l'aloe e l'infuso insieme, che è una miscela di 12 erbe botaniche tonico-stimolanti. E quindi facciamo sì che idratiamo e diamo tanta tonicità al nostro corpo per iniziare al meglio la giornata. Quindi facciamo una sorta di doccia interna e abbiamo la giusta idratazione fin dal primo mattino. Poi col frullato, ricco di 114 micro e macronutrienti, diamo il top della nutrizione. Quindi iniziamo la giornata al meglio e poi durante la giornata dobbiamo bere, dobbiamo bere tantissimo. Mi dicono, vabbè ma io bevo acqua, ok, non basta bere l'acqua, bisogna dare all'acqua il giusto nutriente. Quindi sali minerali, magnesio e potassio. Quindi la mia seconda bottiglia è pronta, la finirò entro stasera e poi mi sentirò sicuramente al meglio. Quindi se facciamo anche un po' di attività fisica è meglio e magari mi dicono, ma io non ho tempo. Se abbiamo una rampa di scale la facciamo 5 volte e già un po' di attività fisica. Se abbiamo una bicicletta dentro casa, una bike, possiamo fare 10-15 minuti di pedalata veloce e aiutiamo le nostre gambe a stare molto molto meglio. Quindi vi ho detto tutto, mineral complex e idrate, ok? Quindi vi auguro un buon pomeriggio, pronti per i prossimi consigli, quindi ci vediamo la prossima volta con altri suggerimenti molto molto utili. Quindi vi saluto, un abbraccio, ciao a tutti, ciao ciao, buona serata.